Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano in edicola e online lapadania.net Dal primo di gennaio sono scattati gli aumenti ai pedaggi autostradali, una media nazionale del 3,9%. Peccato però Ministro che gli aumenti sono ricaduti soprattutto sulle autostrade del nord con danno per i pendolari, per i lavoratori e per le famiglie. Alcuni esempi, la 9, la Milano-Como più 11,5%, tre volte la media nazionale. Aumenti sulla 8 sulla Milano-Varese, aumenti sulla 4, aumenti sulla tangenziale di Milano, aumenti sul passaggio di Mestre. Aumenti al nord ma non al sud. Al sud, salvo casi eccezionali, gli aumenti sono dello 0% per un motivo molto semplice, che al sud non ci sono i pedaggi. C'è addirittura la beffa, la beffa di dire che è la crisi che ha generato una diminuzione del traffico e quindi giustifica l'aumento delle tariffe per gli utenti. È inaudito che alla fine paghiano sempre i soliti, gli utenti del nord, in particolare qua siamo a Varese, Macomo e tutto il nord, mentre tranquillamente attorno a Roma, sul grande raccordo anulare, si può viaggiare senza pagare niente. Peraltro, chiunque ha la sventura di avventurarsi su questa autostrada pagando il pedaggio e che pedaggio, molto spesso al mattino o alla sera si ritrova in colonne dove la velocità media è di 5 km orari, quindi non mi sembra una grande autostrada. L'aumento dell'11,5%, tre volte la media nazionale, su un tratto la Milano-Como di 30 km con due caselli, 3,9 euro a chilometro, è iniquo ed è ingiusto, soprattutto nel momento in cui noi vediamo che con la legge di stabilità sono stati stanziati ancora per la Salerno-Reggio Calabria 340 milioni di euro. Ancora una volta, in maniera incredibile, è solo la Lega a difendere il nord. Quello che mi lascia veramente allibito è che qui in piazza ci siamo noi a difendere l'interesse di tutti i cittadini, anche di chi non vota Lega, perché noi rispettiamo chi paga le tasse, rispettiamo chi lavora quotidianamente ed è veramente incredibile che chi passa nell'autostrada per andare da Milano a Como piuttosto di venire a Varese debba pagare l'11% in più dall'inizio dell'anno. Mentre chi fa la Salerno-Reggio Calabria da sempre e anche questa volta continuerà a non pagare nulla come un'autostrada che invece abbiamo costruito noi con i nostri soldi. Questo rappresenta l'ennesima forma discriminatoria, vessatoria e di razzismo di Stato nei confronti del nord, nei confronti dei pendolari del nord, nei confronti dei lavoratori del nord. Ministro, il nord non può pagare per tutti, il nord paga e al sud si viaggia gratis. È un'ingiustizia che non tolleriamo più.